Allora siamo con un'altra bellissima cosplay qui alla Romics 2014, che scrive? Beh, questo cosplay nasce da gioco di uova al vivo, cioè di evocazioni medievali, giù di lì, quindi molto Tolkien, molto fantasy. Io impersonifico il diavolo, anche se non si direbbe, questo studio nasce appunto da GDR e, essendo il diavolo, vado a fare i contratti, faccio impartire un po' la gente, gioco con le loro menti. Molto bello, cos'è ragazzi questo Romics quest'anno? Ah, sono molto bello, non mi posso lamentare, è vero? Sicuramente sì. E quindi sei venuto da solo e vi ho seguito con le altre mie... Sono quegli amici che fanno lì. Sono che altri cosplay, no? Sì. Ehm, complimenti, vorrei scrivere i dettagli, c'è una... Questa è la... Io ovviamente l'ho comprata, e anche le armi l'ho comprate, la tunica invece... Ah, la nonna... Una nonna, una scatatunga... Gambali... 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 Lo settimo giro, la camera dietro... Ecco qua... Reggira, inquadra anche i gammali... No, non parete, vorremmo dire il tuo nome, per concludere... No, non parete, vorrei dire il tuo nome, per concludere... No, non parete... No, non parete... Grazie Enrico, non proseguire... No, non parete... No... Grazie a tutti.